Ben tornati amici, oggi ho un'altra recensione da fare, un unboxing, si tratta di Xiaomi Earphone 2 Basic Gentilmente concesso da Troni, saluto il direttore Troni di Magnano Cromasco Ma non perdiamo tempo e proviamo subito queste nuove cuffie Queste cuffie erano vedute a 39,90, oggi in sconto, quello che farò oggi è un unboxing Vediamo un po' come si presentano e poi perché no le confrontiamo con quelle che ho recensito della Lenovo Col video precedente che trovate in schede in descrizione Ok, eccole qua, il design è minimal ma è un bel design, sono abbastanza lunghe rispetto a quelle del Lenovo Questo è il destro, poi abbiamo il sinistro, cavetto Xiaomi Type-C Il suo case, meno ingombrante di quello della Lenovo Abbiamo una spia che segna la ricarica Abbiamo quindi la porta della ricarica Questa sezione è una sezione touch Un microfono primario, lo ho qui, un microfono primario In più c'è un microfono secondario Quindi un microfono primario e un microfono secondario Pesano solamente 48 grammi Portata wireless 10 metri, quindi buono Tempo di ricarica circa un'ora e mezza Durata dalla batteria degli auricolari un'ora e mezza Però se andiamo con la nostra custodia di ricarica Riusciamo a utilizzarli per 20 ore Ora si stanno caricando Penso sì, la luce è sempre fissa Ok, allora facciamo la connessione delle nostre cuffie Bluetooth Quindi accendiamo il nostro Bluetooth sul telefono Poi per connettere le cuffie dobbiamo posizionare gli auricolari Nella custodia ce li abbiamo Tenere premuta l'area tattile per 3 secondi Si accenderà la spia Eccola lì che lampeggia Quindi dobbiamo trovarla all'interno del nostro telefono Bene, e adesso facciamo il nostro test con il mio amico Marco E vediamo ora come mi sente Ciao Marco Ciao Marco, come mi senti? Cosa ti sei comprati? Sento benissimo Sto provando delle Xiaomi Mi True Wireless Erano cuffie da 39,90 Che adesso Troni ha messo in super sconto Le trovi nel cestone E quindi mi fa piacere che mi senti bene Sono comode, io sento bene anch'io E penso che non gliele do a Troni Me ne tengo Ti sento benissimo Queste devo dire che funzionano molto bene Non sento alcun fruscio sotto Non sento alcun rumore La tua voce è chiara E se tu mi senti bene Approvate, devo dire Perfetto Da chi è dall'altra parte del telefono Ok? Perfetto, bene Ottima notizia Ti saluto Ciao Ottimo Abbiamo un bip quando risponde Abbiamo un bip quando chiude Approvate dal mio amico Nerd Super Tech Marco Che saluto Dobbiamo fare il test della musica L'audio è buono Il volume è ottimo Anzi è più alto Anche il volume più alto Delle enorme Cuffette a provare Mettiamoci anche un po' di musica Test musicale Approvato Grazie a tutti